Adesso è il momento del professor Montini di cui non aggiungo nulla. Il professor Montini ci parlerà dei bambini con un solo rene. Sono situazioni che per chi non è abituato a lavorare tutti i giorni con i bambini nefropatici, uropatici, mette sempre un po' in allarme il pediatra. Il signore ci ha fatto con due reni, il fatto di averne uno solo è un qualche cosa che ci preoccupa. Prego Giovanni e grazie per essere qui oggi. Grazie, grazie a voi, grazie agli amici veronesi e veneti per l'invito. Fa sempre piacere tornare in Veneto che è un po' casa mia quindi grazie. Oggi vi parlo dei bambini che hanno un rene solo. Noi nasciamo con due reni e averne uno vuol dire avere metà del patrimonio nefronico. Ogni rene ha un milione di nefroni quindi in tutto ne abbiamo due milioni. Quando nasciamo con un rene abbiamo un solo milione di nefroni e questo rappresenta un po' uno spauracchio anche perché molte volte chi nasce con un rene solo ha associate delle altre anomalie delle vie urinarie per cui ci si chiede che cosa fare di questi bambini. E qualche volta, soprattutto in passato, c'è stata un po' un'apprensione, un'esagerazione di approccio medico nei confronti di questi bambini. Questo è Marco che io ho visto in ambulatorio un po' di tempo fa, a 12 anni. Lui è un bambino che ha un monorene congenito a segnalazione prenatale con un'anamnesi familiare fisiologica in cui non c'è nulla da segnalare, nessun problema particolare. Ha avuto le usuali malattie infettive, non ha avuto infezioni delle vie urinarie, non ha avuto ricoveri ospedalieri. All'eco ha un unico rene che è in ipertrofia compensatoria, ha un normale parenchi ma non ha dilatazione delle vie urinarie. L'esame urine è negativo, la funzione renale è normale, la pressione è 112 su 68 che per un bambino di 12 anni è una pressione assolutamente normale. Per il suo monorene a 8 anni viene preso in carico da un centro che si definisce specializzato nella cura dei bambini con malattie renali. Questo bambino quando io l'ho visto faceva esami ematici ed ecografie delle vie urinarie ogni due anni, era in dieta ipoproteica, c'era una dietista che specificamente lo seguiva che gli aveva dato della pasta, dei pani, dei biscotti a proteici da mangiare, una dieta iposodica, di vieto di fare sport da contatto, compreso il calcio, il basket e la pallavolo. Il risultato è che avevamo un bambino estremamente incazzato con il mondo, con i medici, con la famiglia, con la madre, con tutti che non mangiava, che si rifiutava di andare a scuola perché era definito un bambino malato per avere un rene solo. Allora questo insieme a tante altre cose ci ha spinto a cercare di capire che cosa fare in questi bambini e a scrivere queste raccomandazioni che usciranno a giorni su Pediatri Nefrologi. Sono delle raccomandazioni su cosa fare nei bambini con rene singolo, come trattarli in base alle loro situazioni. Sono delle raccomandazioni fatte dalla Società Italiana di Nefrologia Pediatrica con Claudio Lascola e Anita Menti in primis e da tutto questo gruppo di giovani nefrologi pediatri mi fa piacere dimostrare le fotografie perché vedete ci sono tante facce giovani ed è veramente un piacere lavorare con i giovani soprattutto su questi argomenti. Allora che cos'è un rene singolo? Un rene singolo può essere la genesia in cui c'è proprio un'assenza anatomica del rene oppure ci può essere un'assenza funzionale. Questa assenza funzionale può essere una plasia in cui il rene funziona meno del 5%. Voi sapete che alla scintigrafia noi abbiamo normalmente il rene destro che funziona il 50% e il rene sinistro che funziona il 50%. Noi parliamo di aplasia renale quando c'è una funzione relativa inferiore al 5% di un rene oppure un'assenza totale di funzione come nel rene multicistico. Anche qui noi abbiamo un rene singolo. L'incidenza è variabile, è variabile dai vari dati. Comunque quello che probabilmente è un bambino su 600 ha un rene solo e un monorene. A che età li diagnostichiamo? Una buona quota oggi vengono diagnosticati prenatalmente ma una quota non indifferente viene diagnosticata nei primi mesi di vita. Qual è il motivo per cui questo può succedere? Perché a me succede spesso che vengono questi genitori anche incazzati con l'ecografista prenatale perché dicono non è stato visto, non sapevamo niente. In realtà questo può succedere perché la ghiandola surrenale può riempire la fossa lasciata libera dal rene mancante per cui può sembrare all'ecografista prenatale effettivamente quasi un rene. Spesso nel terzo trimestre il colon retroperitoneale può in qualche maniera simulare la presenza del rene e talvolta il rene multicistico è veramente presente o comunque un piccolo rene displasico che nel 5% dei casi può scomparire dopo la nascita. Quindi questo può succedere e non è un problema o un errore dell'ecografista prenatale. E perché tanta attenzione è stata apposta nel portatore di rene singolo negli ultimi 10-15 anni? In parte nasce da questa segnalazione che viene dal Gaslini di Genova in cui vedete che i bambini con vari tipi di anomalie delle vie urinarie del rene hanno un'evoluzione a 30 anni in insufficienza renale abbastanza elevata e il portatore di rene singolo in questo contesto a 30 anni il 30-40% dei bambini aveva un'evoluzione in insufficienza renale. Questi sono dati che qualche volta noi vediamo ma questa è una casistica estremamente selezionata di un centro di terzo livello dove ovviamente convergono i bambini con i problemi maggiori e questo non è la realtà di tutti i giorni. Allora, che cosa fare di fronte a un bambino che ha un rene singolo? Una volta noi dicevamo di fare una serie di esami, la scintigrafia, la cistografia, in alcuni anche di valutare la possibilità di presenza di anomalie extrarenali e in alcuni casi anche di eseguire la genetica. La scintigrafia. La scintigrafia è effettivamente l'esame call standard che ci permette di valutare come funzionano i reni e se è presente un rene solo o se sono presenti delle ectopie renali. Ma dobbiamo farla di routine. Oggi abbiamo deciso che non è assolutamente necessario. I dati ci dicono che l'ecografia è in grado di predire in maniera molto, con un'altissima specificità, il 100%, la presenza di un rene singolo e quindi per noi oggi è sufficiente l'ecografia e non richiediamo la scintigrafia se non in situazioni particolari. Dobbiamo fare la cistografia per valutare la presenza di altre anomalie delle vie urinarie, per esempio il reflusso vescico-ureterale. Cosa ci dice la letteratura? La letteratura ci dice che uno su quattro dei bambini portatori di rene singolo ha un'anomalia delle vie urinarie associate. Di queste il 20% è un reflusso vescico-ureterale e il 9% è un reflusso vescico-ureterale di alto grado. Voi sapete oggi che noi il reflusso di primo e secondo grado lo consideriamo una situazione assolutamente parafisiologica. Per noi non è un problema, non va trattato, non va seguito a meno che non vi siano delle anomalie vescicali associate. Il reflusso di alto grado, quindi terzo, quarto e quinto, è presente nel 9% dei casi. Altre anomalie più importanti sono presenti molto più raramente. E allora la nostra decisione nelle linee guida è di non fare la cistografia al bambino portatore di rene singolo ma di limitarsi ad eseguire un'ecografia. Se questo bambino non ha infezioni delle vie urinarie e se questo bambino non ha una associata dilatazione dell'uretere o altre anomalie evidenziate a livello vescicale a noi è più che sufficiente l'ecografia in questo contesto e non dobbiamo fare nessun altro esame. Ci possono essere delle anomalie associate? Ci possono essere. E quello che è molto importante ed è importante che secondo me il pediatra di famiglia tenga ben presente è che le bambine portatrici di un rene singolo hanno un rischio di avere un'anomalia associata delle vie genitali, dell'utero e della vagina. Questa è Federica, una bambina di 17 anni si presenta con una menorrea primaria ha un rene singolo a riscontro postnatale non ha altre alterazioni all'ecografia pelvica transaddominale o vescica piena è presente un utero ipoplasico e un'assenza della vagina tra ure e tre parti anteriore del retto. Questa è una bambina che ha una sindrome di Rochitansky associata e quindi dobbiamo sapere che le anomalie delle vie urinarie nei bambini portatori di rene singolo sono presenti e sono presenti soprattutto nelle femmine una su dieci hanno un'anomalia dell'utero o della vagina e quindi una delle raccomandazioni importanti è che nelle femmine portatrici di rene singolo prima della pubertà venga fatta un'ecografia pelvica per studiare il tratto genitale. Questo è assolutamente importante farlo molto da piccoli nei primi mesi di vita può avere dei falsi risultati è importante farla prima della pubertà quindi che cosa fare come work up diagnostico in questi bambini? Ovviamente l'esame fisico non è necessaria di routine la scintigrafia e la cistografia è assolutamente fondamentale un'ecografia pelvica nelle bambine portatrici di rene singolo e non sono necessari dei test genetici a meno che non vi siano altre anomalie associate qual è l'evoluzione a lungo termine? Allora avere metà dei nefroni può rappresentare effettivamente un problema perché se noi ne abbiamo duemila lavorare con un milione in alcune situazioni può rappresentare un problema ma è un problema relativo pensate al fatto che noi che facciamo i trappianti di rene nei bambini la prima scelta che abbiamo è quella di farla da vivente quindi di togliere un rene a uno dei due genitori e di lasciarlo monorene lo facciamo sapendo bene che questa sia una situazione che possa essere a prognosi ottima per chi rimane con un rene singolo però lo facciamo soltanto ai soggetti che sono perfettamente sani i donatori di rene per i bambini vengono sottoposti a una serie di screening, di esami veramente molto importanti e se appena appena noi vediamo che questo soggetto è un po' iperteso che ha un po' di proteinuria che ha qualche altra anomalia non lo consideriamo idoneo a donare quindi dona solo chi ha una situazione anatomica perfetta chi ha un monorene può non avere una situazione anatomica perfetta per cui ci sono dei campanelli di allarme nei bambini e negli adulti portatori di monorene che devono essere presi in considerazione queste sono alcune casistiche con un numero non importante di pazienti ma è questo quello che c'è in letteratura e voi vedete che il danno renale a lungo termine può essere presente nel 30% di questi soggetti e con danno renale noi consideriamo già la presenza di ipertensione e la presenza anche di proteinuria che sono i due segnali d'allarme per noi di una possibile malfunzione del rene voi sapete bene che il rene ha molta difficoltà a esprimere il suo stato di malessere quando interviene uno scompenso cardiaco o un problema polmonare maggiore ce ne accorgiamo immediatamente quando interviene uno scompenso renale e facciamo molta fatica ad accorgercene e i due segni veramente importanti che il pediatra di famiglia deve tenere in considerazione sono la pressione arteriosa e l'esame urine quindi la proteinuria e l'ipertensione però nelle casistiche che valutano la funzione renale la maggior parte dei soggetti a distanza ha una funzione renale normale questa è una casistica di 150 bambini che noi abbiamo studiato quando ero a Bologna e abbiamo seguito prospetticamente nel tempo e quello che è emerso da questa casistica del messaggio che io voglio darvi è che tutti i soggetti che hanno un'ipertrofia compensatoria adeguata del rene hanno una prognosi a lungo termine buona quindi quello che importa quando noi valutiamo questi bambini e quando valutiamo l'ecografia è di capire se la lunghezza di quel rene è una lunghezza adeguata per un soggetto con un monorene perché quel rene deve essere più grande di più lungo di un rene che è presente in un soggetto con due reni perché deve essere in ipertrofia compensatoria quindi quando noi abbiamo un bambino monorene con un rene più grande siamo fondamentalmente tranquilli perché quel rene è in grado di sopperire alla funzione mancante dell'altro rene e questi sono i dati del nostro studio bolognese voi vedete che nell'evoluzione a lungo termine ne intendiamo come evoluzione a lungo termine la comparsa di proteinuria o ipertensione se uno ha un rene in ipertrofia compensatoria ha un rischio basso di avere un qualche problema renale se uno non ha un'ipertrofia compensatoria il rischio è molto più alto e quindi quando noi vediamo un soggetto con monorene dobbiamo capire se appartiene alla corte dei bambini che sono in ipertrofia compensatoria o se appartiene alla corte dei bambini che non lo sono perché il nostro approccio è completamente diverso il primo è un soggetto non a rischio il secondo è un soggetto a rischio e questo cambia l'approccio che noi dobbiamo fare e lo vedremo dopo cosa noi possiamo fare per seguirli nel tempo? queste sono le cose molto semplici l'ecografia per seguire come cresce il rene la dimensione di quel rene il controllo della pressione l'esame urine e il dosaggio della creatinina che i soggetti con monorene abbiano un rischio maggiore di sviluppare ipertensione è vero queste sono due corti di pazienti i pallini in blu sono bambini non normali bambini con un'uropatia malformativa con un reflusso vescico-ureterale con una displasia del giunto quindi con un fattore di rischio associato questi sono bambini con monorene e voi vedete che lo studio della pressione arteriosa nelle 24 ore con l'olter dimostra un maggior numero di bambini con pressione arteriosa elevata proprio nei soggetti con monorene quindi il controllo della pressione è assolutamente essenziale quello che noi raccomandiamo è di dividere i bambini in tre categorie i bambini a basso rischio che sono quelli con reni in ipertrofia compensatoria che hanno bisogno veramente di un follow up minimo basta che venga fatta ogni 3, 4, 5 anni una valutazione generale con un controllo della pressione arteriosa e dell'esame urine ricordiamo nelle bambine di fare l'ecografia alla pubertà per il discorso che abbiamo fatto prima per quel 10% di bambine che ha associato un'anomalia dei genitali nei soggetti a medio rischio noi abbiamo controlli un po' più frequenti e sono quei bambini senza ipertrofia compensatoria e sono quei bambini che devono essere mandati ai centri di nefrologia pediatrica mentre i bambini a basso rischio devono essere seguiti dal pediatra di famiglia i bambini ad alto rischio sono quelli che hanno già una diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare e questi sono bambini che assolutamente devono essere seguiti dai centri di nefrologia pediatrica l'altra cosa è che la nostra legge dice che i bambini con un monorene non possono fare degli sport da contatto non possono giocare a calcio non possono giocare a basket non possono giocare a pallavolo è giusto questo noi non lo riteniamo assolutamente giusto stiamo cercando di far cambiare questa legge ma non è facile ogni volta facciamo riscorso al CONI quello che io dico sempre ai genitori dei bambini con monorene non dite che ha un rene solo perché tanto non se ne accorge nessuno non se ne accorge il medico dello sport voi andate lì fa l'esame fa l'esame urine negativo la pressione è normale e il bambino va a fare il suo sport che gli piace perché? perché ci sono dei dati molto chiari in letteratura intanto i danni renali che noi vediamo sono soprattutto da incidenti di macchina quelli da sport sono rarissimi e se noi andiamo a rivedere questa casistica che è molto interessante questi sono 4 milioni e mezzo di atleti che sono esposti a dei rischi e quanti sono gli incidenti che sono successi e i danni sono 23 mila quanti sono quelli ai reni danni ai reni 18 quanti sono quelli alla testa 2069 noi abbiamo una testa sola un cuore solo un fegato solo ed è la testa che è molto più esposta ai traumi durante gli sport rispetto ai reni per cui il rene ha bassissimo rischio non è zero ma non è zero per nessuno Schumacher è stato male perché ha avuto un trauma cerebrale non perché ha avuto un trauma renale correndo in macchina tutta la vita quindi il rischio di avere un trauma renale è estremamente basso e quindi quello che noi raccomandiamo è di farli partecipare alle attività sportive e il trucco è non dire nulla al medico sportivo non dire che uno ha un rene solo nessuno se ne accorge nessuno lo sa c'è? appunto noi diciamo al genitore di non dirlo nessuno ti chiede niente tu non dici niente non è che ti chiedono ha un rene solo ma no assolutamente non è un problema non è un problema perché la domanda che ti fanno ci sono problemi avere un rene solo non è un problema non è una malattia è un bambino normale l'altro aspetto è quale abitudini alimentari le abitudini alimentari sono assolutamente quelle dei bambini della stessa età l'unica cosa che noi dobbiamo così porre attenzione è che la nostra società ha una dieta tendenzialmente ipersodica i bambini si mangiano le patatine fritte col sale poi il popocorno col sale poi aggiungono sale e questo rappresenta un eccessivo carico di sale e quindi a chi è portatore di un rene solo questo carico di sale prolungato nel tempo rappresenta effettivamente un problema e c'è un rischio di sviluppare ipertensione a 30-40 anni allora quello che io dico ai genitori di bambini portatori di rene solo singolo è di fare una dieta normosodica spesso le mamme escono e tolgono completamente il sale e io le raccomando signora non deve togliere il sale perché il sale il suo bambino ne ha bisogno deve solo non esagerare punto quindi non ci sono diete particolari da fare a questi bambini quello che noi raccomandiamo è evitare la disidratazione perché la disidratazione è una delle cose più dannose per il rene anzi anche avendo due reni quindi questi bambini devono bere bere acqua quando fanno sport perché è il momento in cui il bambino si disidrata di più devono bere ma tutti dobbiamo bere perché la disidratazione è nemica dei nostri reni e evitare o comunque ridurre al minimo l'uso di farmaci nefrotossici anche questo rappresenta comunque una cosa abbastanza ovvia che facciamo anche in chi è portatore di due reni quindi il rene singolo è un rene a buona prognosi che però va seguito nel tempo dobbiamo prestare particolare attenzione a come cresce questo rene dobbiamo ricordarci di eseguire un'ecografia pelvica nel follow up di soggetti di bambine di femmine e dal nostro punto di vista questo lo scriviamo nelle linee guida che saranno pubblicate nei prossimi giorni non limitare lo sport e nessuna dieta particolare grazie 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 professor Montini complimenti per la relazione chiara i messaggi che ci ha trasmesso sullo sport sulla dieta anche per gli adolescenti che ci ha dato Giorgio Grazie.